In questi giorni di festa appena trascorsi la via verde della costa dei Trabocchi è stata presa d'assalto dai turisti, però sono emerse tante criticità riportate alla cronaca dal consigliere regionale Francesco Taglieri. Criticità che ormai si presentano da troppo tempo e che naturalmente non permettono la possibilità di utilizzare in maniera corretta questo strumento. Uno strumento che di base attira tantissimi turisti da fuori regione, uno strumento che ancora oggi è un cantiere, forse il cantiere più grande d'Italia, con tutte le sue criticità, ma funzionale. Evidentemente questa costa dei Trabocchi, la sua realtà, la sua identità, nella sua bellezza e nella sua particolarità attirano tantissimi turisti. Le criticità ultime segnalate da me negli anni sono quelle dell'intermobilità. Abbiamo avuto problemi con i parcheggi, soluzioni che non sono arrivate e ultima notizia di cronaca è il fatto che alcuni turisti che arrivano da altre regioni sono costretti a lasciare i loro bici per tornare a casa. Cosa inaccettabile, cosa impossibile, bisognerebbe iniziare a ragionare su un tavolo tecnico che coinvolga tutte le istituzioni, provincia, comuni, regione, per dare delle soluzioni e per concludere questo infinito cantiere in modo da dare uno strumento di valore aggiunto a quello che è il turismo regionale, a quelle che sono la conoscenza delle bellezze dei nostri territori e a quella che poi è un riferimento sul centro Italia, non solo, un'esclusività alla costa dei Trabocchi. Importante per i commercianti, importante per quelle che sono le persone che vivono la nostra quotidianità. La soluzione naturalmente è intervenire su quelli che sono i regolamenti e fare in modo che le aree interne attraverso TUA ci diano la possibilità di trasportare più bici e non soltanto due perché diventerebbe impossibile e fare in modo che questo collegamento avvenga sia per le aree interne sia dalle altre regioni. Questo è quello che naturalmente va portato immediatamente al tavolo.